Buongiorno signori e signori, non è la prima volta che partecipo al forum ma è la prima volta che parlo della tribuna perché il nostro moderatore è Sergio Estergems che vuole fare alla grande e ora mi tocca parlare in piedi. Allora io volevo dire alcune parole sulla attuale situazione economica della Russia, parlare delle previsioni e innanzitutto vorrei rilevare che le previsioni che avevamo fatto alla fine dell'anno scorso si sono rivelate eccessivamente ottimistiche. La previsione forse più corretta fatta all'epoca era forse quella della Banca Mondiale. Nel mese di dicembre però questa previsione è stata modificata, cioè la revisione è stata fatta nel momento in cui era già nato il processo di svalutazione della moneta russa ed erano abbastanza visibili alcune fette delle sanzioni introdotte contro la Russia. Io devo dire che la recensione economica della Russia quest'anno è attorno al 4%. Naturalmente non si trassa soltanto della precisione delle previsioni. È importante trovare e vedere tempestivamente gli indizi della crisi per arginare il processo, il fenomeno, avviare una politica anticrisi. Devo dire che il rallentamento dell'economia e degli investimenti iniziato nel 2012 era il primo indizio dell'avvicinanza della crisi, mentre nel 2013 la dinamica per la prima volta diventava negativa. Anche gli investimenti sono diminuiti dell'1,5%, in tal modo possiamo dire che da 4 anni gli investimenti stanno diminuendo. Per quel che riguarda l'inflazione, i valori di picco sono stati raggiunti nel mese di gennaio, quando l'inflazione ha toccato le punte del 4%, ma alla fine dell'anno probabilmente il tasso di inflazione sarà vicino a quello che c'è stato nell'anno precedente. Ieri il Presidente Putin, parlando al forum di Valdai, ha promesso il 12%, ma noi certamente siamo preoccupati dal fatto che già l'anno scorso l'inflazione ha raggiunto livelli a due numeri e quindi noi vorremmo che potessero avverarsi le previsioni della Banca Centrale che per l'anno prossimo prevedono un tasso di inflazione naturalmente più basso. Noi come Confindustria regolarmente facciamo rassegne analitiche e noi abbiamo registrato questa tendenza di rallentamento dei principali indicatori, cioè l'indice che noi stiamo formulando per noi è stato una specie di indicatore, però in gennaio del 2015 le aziende hanno cominciato ad adattarsi attivamente alla situazione legata anche ad alti tassi di interesse sui prestiti, legati alla volatilità della moneta e al rallentamento, all'abbassamento della domanda. Di conseguenza il Presidente nelle ultime due settimane per ben due volte ha detto che l'apice della crisi è rimasto ormai nel passato, però qui ci sono posizioni diverse, alcuni dicono che è stato oltre al passato l'apice, l'altro dicono che abbiamo già toccato il fondo. Naturalmente questo non significa che gli imprenditori non hanno problemi, i problemi sono tanti, se non di me ne lo voglio dire un'altra volta, gli imprenditori russi hanno riconfermato la loro capacità di operare nelle difficili condizioni della crisi, nella situazione di crisi, aggravato e pregiunto dalle sanzioni, dalla situazione geopolitica, quale può essere la fonte di crescita? La settimana scorsa, quando c'era in corso il forum La Russia Chiama, si è dibattuto attorno agli indirizzi di sviluppo dell'economia russa e qualcuno ha lamentato il fatto che l'economia dipendeva troppo dal petrolio. Questo è una conferma dalla saggezza del professor Falleco che ha deciso che le relazioni chiave dovevano riguardare il settore energia. Negli ultimi anni infatti il settore energia non solo ha mantenuto la sua quota, ma ha aumentato anche gli indicatori, le esportazioni sono cresciute dal 3,5% e a questo settore, il settore energetico, tocca il 20% del PIL complessivo della Russia. Sebbene ieri Putin discesse che la quota delle aziende di energia stia calando, anche nell'ambito della strategia che viene debattuta, la quota del settore energetico dovrebbe calare sino al 23% e questo significa che ci sarà una crescita sostanziale dei settori non legati alle materie prime. Naturalmente il lancio dell'economia richiede degli investimenti, ma purtroppo per ora le fonti di finanziamento rimangono inaccessibili perché le sanzioni, pur non essendo introdotte contro le banche commerciali, ma soltanto contro alcune banche statali, indirettamente hanno colpito l'interesse anche delle aziende piccole e medie perché anche le banche statali finanziavano in precedenza le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda le fonti interne di finanziamento, devo dire che il tasso di interesse è piuttosto elevato. In agosto di quest'anno il tasso medio sul prestito superava il 14%, naturalmente se lo paragoniamo al mese di gennaio quando si trattava del 20%, possiamo dire che c'è stato un progresso notevole, ma ciò non di meno, quando si tratta di progetti che presuppongono necessità di investimenti, questo è un tasso proibitivo. Pertanto le banche, avendo la possibilità di giocare in borsa, persino le banche a partecipazione statale lo fanno, spesso scelgono operazioni meramente speculative piuttosto che le operazioni di finanziamento. In questo senso io direi che sta abbruscamente aumentando il ruolo delle istituzioni di sviluppo. Il Ministro Mantro ha già detto che la settimana scorsa si sono tenute alcune presentazioni che prevedono la creazione di nuove strutture di sviluppo, per esempio del Centro Nazionale delle Esportazioni, sulla base di Rosso Eximbank e dell'Agenzia Assicurativa. Sempre la settimana agosto si è tenuta la prima riunione della nuova corporation a sostegno delle piccole e medie imprese. Io e il signor Nikiton siamo membri del board di questa nuova struttura. Quindi voglio dire che ci vogliono degli strumenti anticrisi che già vengono adoperati attivamente e molte di queste strutture rilasciano prestiti a condizioni agevolate. Per esempio c'è chi lo dà al 5% rispetto al 14% che ho menzionato prima, naturalmente il 5% è molto più attraente, ma comunque si capisce che queste nuove strutture non possono compensare le perdite legate all'impossibilità di accedere alle fonti di finanziamento in altri settori. A questo proposito noi certamente insieme al Governo stiamo lavorando per risolvere questioni di importanza sistemica. Stranamente all'improvviso abbiamo saputo che c'è una forte mancanza di specialisti qualificati. Noi come Confindustria vediamo che il problema dei specialisti rimane uno dei problemi chiave dei nostri membri. Questo significa che nonostante le crisi la maggioranza delle aziende è orientata verso la modernizzazione, verso l'uso di nuove tecnologie più avanzate e più efficienti. Siccome sono convinto che la priorità che si dà al problema degli specialisti conferma che l'orientamento è proprio di questo tipo tecnologico innovativo. Ci sono poi altri problemi come versamenti assicurativi, fondi di assicurazione statale, di contributi e anche su questi temi noi siamo costantemente in dialogo con il Governo. Secondo i nostri sondaggi quest'anno, nell'ambito dell'attuale ciclo economico, uno dei problemi più importanti è al top dei problemi, c'è il problema dei finanziamenti. Negli anni precedenti non era così. Naturalmente gli imprenditori sono preoccupati anche dalla instabilità dei mercati valutari. C'è chi dice che molte società, molte aziende abbiano guadagnato con la svalutazione del ruolo. Sì è così, ma se consideriamo che molte aziende della Russia avevano avviato la modernizzazione e quindi acquistavano macchinari e tecnologie all'estero, le stesse società sono la parte perdente. Tanto più che molte aziende, non avendo la possibilità di rifinanziare i debiti contratti all'estero, stanno usando le risorse interne per supportare questo debito corporate e quindi aumentano, sono costretti ad aumentare le loro spese per supportare il prestito, il debito. Ciò nonostante, voglio dire un'altra volta che Gli imprenditori in generale sono abbastanza ottimisti. Lo dimostrano gli indicatori che abbiamo accertato e quindi continuano ad elaborare misure anticrisi oltre al programma anticrisi del governo del quale ha parlato nel mese di agosto il primo vice premier del governo Igor Shualov ma stanno preparando dei programmi anticrisi a livello aziendale e vediamo che il contenuto principale riguarda l'ottimizzazione delle spese. I tagli riguardano le spese per le materie prime, l'outsourcing, eccetera. C'è da notare però, sebbene stia calando il numero delle assunzioni, di specialisti qualificati, quasi nessuno viene licenziato perché anche nel consenso della crisi trovare nel mercato della mano d'opera specialisti qualificati non solo è difficile anzi è quasi impossibile. Pertanto anche con tutta la gravità della crisi l'ottimizzazione non viene effettuata nella misura superiore al 5%. Certamente noi facciamo argomentamente un confronto fra la nostra situazione e gli altri paesi dell'Unione Euroasiatica con i paesi BRICS. È un tema a parte però di cui potremo parlare dopo la sessione. Tuttavia vorrei dire che mi piacerebbe che la Russia si prefiggesse il compito di mantenere la sua quota nell'economia mondiale. Per risolvere questo problema noi dobbiamo crescere a ritmi più alti rispetto ai paesi industriali e forse a ritmi leggermente inferiori ai mercati emergenti. Grazie.